Qui stiamo cercando di lavorare sullo cuore delle persone perché comunque dobbiamo avere un gran incasso perché l'incasso va soprattutto devoluto all'acquisto dei fibrillatori, quindi per noi è fondamentale, è un pretesto, ma il fondamentale obiettivo è il cuore delle persone, sia il cuore che gli animano nel momento in cui fanno raccolta e acquisto dei biglietti, sia poi quello che sarà il risultato finale, cioè l'acquisto dei fibrillatori. Un torneo di solidarietà che ha pensato appunto di indirizzare attraverso tutte le persone coinvolte il ricavato al progetto Ferrara Città Cardioprotetta, un progetto che ha come obiettivo quello di dotare la città dei fibrillatori, dei fibrillatori a disposizione di ogni cittadino che si trovano all'aperto, 25 sono quelli immaginati non solo in città ma anche nel territorio delle frazioni. Abbiamo detto sì subito perché quando si parla di beneficenza Spalla è sempre presente, noi come fondazione abbiamo fatto una serie di eventi quest'anno e quando il prefetto mi ha proposto questa partita ci siamo subito messi a disposizione. La cosa più bella è stata che tutte le componenti in campo hanno dato il loro contributo, è stato tutto fatto con grande entusiasmo, quindi tutti al marzo il 15 giugno e da domani prevendita a Viva Tickets per una buona causa. Abbiamo creato questa rappresentativa di atleti, ex atleti ferraresi e ex giocatori della Spalla e l'abbiamo messa sotto la casacca di donatori donalimpici perché l'abbiamo legata al valore del dono del sangue in ambito sportivo, un valore nel quale l'Avis di Ferrara crede molto e per la quale sta lavorando in questi anni e che quindi vogliamo promuovere ulteriormente durante questa partita perché ci piace come dare questo senso di appartenenza a una comunità di tutti gli atleti anche attraverso questo gesto. Noi come Associazione Giulia abbiamo da dieci anni una squadra che si chiama Giulia Team e quindi scenderemo in campo affrontando con forza, onore e vigore le altre tre compagini che sono veramente molto agguerrite. Il 15 giugno tutti i contradaglioli vestiranno la stessa casacca che è la casacca della solidarietà. Questo è un progetto molto nobile, prezioso in cui siamo coinvolti da protagonisti, un ringraziamento particolare va al signor Prefetto e all'amministrazione comunale per aver pensato appunto alla fondazione Paglio Città di Ferrara, ex ente Paglio. Noi abbiamo accolto subito con grande entusiasmo e grande voglia anche di vincere perché ormai si è diffusa questa notizia della partecipazione del Paglio in maniera trasversale all'interno di tutte le contrade e noi partecipiamo anche per vincere, ma vincere soprattutto dal punto di vista della solidarietà a parte gli scherzi, per dare un grande contributo a questo prezioso e importante progetto legato appunto alla salute di tutti noi.